Senta, vuole partecipare alla coppa? No, la coppa, no! E allora, forza! Dunque, camuffiamo la voce. Molletta, molletta, molletta. Molletta? Patata, patata. Apre la bocca. Imbuto, imbuto, imbuto. L'orecca. Asciugamano. Asciugamano che copre. Ora, stringiamo. Respira. Questa è la conca di rame. Questo è il testo. Vado, eh? Non capisco. Faccio l'accento svedese. Lo sa fare? Lo facci? Oh, faccio il numero. Eh? Quattro. Sette. Otto. Nella conca! Svedese! Voi! Patate lei! Contento? Vedi? Mi ha rovinato tutto. Eh! Accento svedese!